ciao a tutti amici benvenuti ad una nuova avventura chiamata futura io sono manuel e oggi ho il piacere di mostrarvi dell'ongjing allora andiamo con ordine andremo a impersonare ombra l'unico servo dell'ultimo re del sottosuolo il re ultimamente stanco così gli dice caro ombra sono un attimino stanco necessito di dormire ci vediamo tra 400 giorni e voi direte cosa sarà mai e io vi rispondo no no sono 400 giorni effettivi voi rimarrete nel sottosuolo per 400 giorni dovrete prendervi cura del vostro piccolo ombra come potrete farlo esplorare luoghi dove il re vi aveva consigliato di non andare potrete arredare anche quella che potrebbe essere il vostro piccolo appartamento scavare in qualche galleria tutto questo con una veste grafica cartonesca e un sonoro che vi farà letteralmente sentire nel sottosuolo sicuramente non è un titolo adatto a tutti perché in molti potrebbero annoiarsi ci sono dei trucchi per poter aumentare il tempo però vi rovinerebbe l'esperienza in quanto il titolo non costa molto è sottotitolato in italiano quindi io vi consiglio di godervelo così voi potete benissimo anche comprare il gioco non giocare a questo titolo per 2 giorni accendere gli ultimi 10 ma ricordatevi che il vostro piccolo ombra sentirà molto la vostra mancanza il gioco dividerà i giocatori in due parti coloro che non lo sopporteranno lo abbandoneranno poco dopo magari chiedendo anche subito il rimborso e invece altri che se ne innamoreranno e non riusciranno più a staccarsene calcolate che ci sono tre finali uno segreto uno buono e uno cattivo grazie per essere rimasti con noi e alla prossima